Siamo a San Polo, Villa Gigliosi, luogo dell'eccidio della strage di San Polo con il sindaco di Subiano che ha appena posto la ghirlanda a ricordo delle viti. Sindaco, che significato ha il 25 aprile per lei e per il gesto di portare la ghirlanda qui a San Polo? Un gesto dovuto chiaramente perché il 25 aprile ha segnato nella nostra storia una data fondamentale. Persone, giovani soprattutto, che sono morti per la libertà del nostro paese e quindi è un valore che deve essere sempre ricordato e messo in evidenza anche per le generazioni future perché sia un esempio nella storia del mondo intero quello che ci hanno lasciato queste persone. Qui c'è stato un eccidio importante per tutta la provincia di Arezzo. Diversi cittadini di Subiano, giovani soprattutto, hanno perso la vita in questo eccidio. Quindi oggi è un gesto dovuto, non solo da parte mia, ma in rappresentanza di tutta la cittadinanza di Subiano, chiaramente per ricordare chi ci ha dato la possibilità oggi di poter esprimere liberamente le nostre idee e quindi di poter vivere oggi in un paese libero. Quindi oggi anche in quarantena, quindi un 25 aprile è un po' diverso perché non ci sono cortei, non c'è la possibilità per le persone di partecipare attivamente a questa manifestazione. Quindi lei, rappresentanza delle istituzioni, rappresenta tutti e ha voluto rappresentare tutti ugualmente dinanzi a questo monumento. Certo, è un 25 aprile molto particolare e penso che in questo momento la vicinanza delle persone sia più col cuore che con la presenza fisica. Io ho visto tante bandiere tricolore appese alle finestre, come era appunto stata invitata a fare la cittadinanza, il ricordo di questo giorno particolare. Diciamo che la nostra testimonianza sarà una testimonianza fatta più col sentimento che con la presenza fisica. Bene, allora voglio ricordare oggi l'evento che ci sarà alle 15, l'evento virtuale per tutti quelli che vorranno cantare pubblicamente. Bella ciao e quindi grazie sindaco per questo gesto a nome di tutti, anche degli aretini. Devo fare anche complimenti alla prima ed unica ghirlanda che c'è in questo monumento che ricordiamo nel comune di Arezzo. Grazie sindaco. Grazie a voi.